come va e bentornati sul mio canale prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità oggi vediamo la differenza tra due tipi di pagamento che possono sembrare uguali almeno al sentirli nominare ma che in realtà non lo sono affatto e sono il reddito minimo garantito e il salario minimo il reddito minimo garantito e il salario minimo possono essere confusi tra di loro ma molto spesso accade perché fanno riferimento a dei pagamenti che le persone possono ricevere e sono comunque considerati come dei sistemi di aiuto al reddito il reddito minimo garantito servirebbe a garantire un pagamento proprio come dice la parola minimo che arriva direttamente dallo stato o dall'inps insomma comunque sempre da lì arrivano e serve a garantire una vita dignitosa a tutte quelle persone che stanno al di sotto della soglia di povertà il reddito minimo garantito poi non è da confondere assolutamente con il reddito di cittadinanza perché questo sarebbe in pratica un sostegno economico che prevede di pagare una somma di denaro a tutte le persone che hanno dei determinati requisiti e comunque come dicevo prima servirebbe a garantire una vita dignitosa dovete sapere che il reddito minimo garantito da quello che so io è già attivo in molti paesi europei come per esempio la francia la germania e il portogallo ma se avete altre informazioni di altri paesi che hanno questo reddito minimo garantito fatemelo sapere qui sotto nei commenti così vediamo quali altri paesi pagano questi soldi alle persone mentre invece il salario minimo salario minimo sarebbe imposto dallo stato a tutti i datori di lavoro e sarebbe un limite di pagamento sotto il quale un dipendente non può essere pagato per legge salario minimo servirebbe per i lavoratori dipendenti ovviamente di vedersi riconosciuto un reddito minimo a livello nazionale quindi in italia vi dico già che comunque in italia al momento non sono presenti né il salario minimo e nemmeno il reddito minimo garantito se ne sta parlando però si sta parlando anche del reddito di base e che di questo reddito di base ve ne ho già parlato ampiamente in altri miei video e comunque apre una parentesi se volete che vi parla nuovamente vi spiego un pochino meglio anche come funziona il reddito di base europeo commentate qui sotto e fatemi sapere se volete che ve ne parlo così vi preparo un altro video aggiornamento con tante altre informazioni di tutto quello che riesco a trovare commentate qui sotto ora veniamo all'altro argomento di questo video l'altro giorno tempo qualche tempo fa avevo pochi giorni fa insomma comunque avevo pubblicato un sondaggio qui sul mio canale di youtube è il 65 per cento di voi ha risposto che ancora non ha ricevuto il pagamento della data del 27 di maggio per quanto riguarda il reddito di cittadinanza quindi diversi di voi a quanto pare avrebbero lamentato un mancato pagamento pare che questo ritardo sarebbe stato causato solo dal fatto che siccome i pagamenti sono stati fatti a ridosso del sabato e la domenica le poste non abbiano ancora accreditato i soldi quindi non si è capito bene se sia un disguido di poste o dell'inps quindi sinceramente non lo so neanche io quale dei due a qual dei due a dar ragione quindi il mio consiglio per adesso è quello di aspettare fino alla prossima settimana quindi a partire da lunedì o al massimo martedì mercoledì insomma per vedere se arriva l'accredito e comunque ricordatevi che le poste hanno sempre tempo fino a fine mese per pagare tutti quanti speriamo solo che non ci siano di nuovo dei fortissimi ritardi come è successo il mese scorso che poi i pagamenti sono arrivati poi diciamo come si dice a babbo morto quindi a questo punto non resta altro che pensare solo che la causa del mancato pagamento sia dovuta a una natura tecnica o di mala comunicazione tra i due enti quindi comunque entro qualche giorno sicuramente poi l'inps o meglio le poste provvederanno a pagare tutti quanti in modo corretto e comunque potete sempre contattare il centralino telefonico dell'inps per farvi dire se tutto quanto a posto e comunque vi ricordo anche qui apro una parentesi che se chiamate il centralino dell'inps al telefono o gli scrivete un'email o parlate con un dipendente dell'inps e vi danno delle informazioni utili e interessanti potete commentare qui sotto e comunicarci a tutti quanti noi con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui solo sempre sul mio canale di youtube vi aspetto ciao 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 ciao